Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi vi porto all'interno del catalogo di Padana Sementi poiché è un catalogo estremamente vasto quindi vediamo un po' come muoverci al suo interno per trovare il prodotto più indicato alle vostre esigenze. Le due linee principali fiore all'occhiello di Padana Sementi sono la linea Top Class e la Top Class for Solve. Le miscele Top Class sono destinate prevalentemente ai professionisti del settore quindi manutentori del verde, grandi gestori di impianti sportivi e via dicendo. Sono composte da varietà di altissimo pregio e di ultima generazione e di solito hanno una colorazione molto scura. Essendo miscele destinate all'utilizzo professionale sono disponibili solo in confezioni da 10 kg ma visto il suo grande successo l'unico prodotto reso disponibile nella confezione da chilo è l'Extreme Blue di cui vi lascio il video dedicato in sovraimpressione. Parallelamente alla linea Top Class abbiamo la linea Top Class for Solve. Anche questa destinata ad un'utenza professionale ed in particolar modo ai produttori di Prato Pronto. Infatti il termine Solve significa appunto zolla con riferimento alla zolla di Prato Pronto. Ora perché fare una linea dedicata esclusivamente ai produttori di Prato Pronto? Perché questi ultimi hanno problematiche differenti da quelli del comune Prato Domestico. Necessitano ad esempio di un fitto in treccio radicale per garantire una maggior resistenza sia in fase di asporto che di trasporto della zolla. Hanno bisogno poi di un'assoluta purezza ovvero una totale assenza di infestanti. I semi di alcune erbe infestanti sono estremamente piccoli direi microscopici quindi possono essere facilmente trasportati dal vento e depositarsi sopra gli altri semi finendo inevitabilmente all'interno del mix. La comparsa di erbe infestanti all'interno del Prato Pronto è un enorme problema per il produttore poiché si vede costretto a rimuoverle e quindi con un aggravio di costi e tempo. Per risolvere questo problema i padanasementi si sono dotati di un laboratorio analisi interno attraverso il quale effettuano numerosi campionamenti, prove di laboratorio e test al microscopio così da garantire l'assoluta purezza di questi miscugli. Oltre al problema delle infestanti i produttori di Prato Pronto sono esposti anche al rischio molto elevato delle patologie fungine in quanto per velocizzare la crescita e massimizzare la produzione molte volte mantengono un ambiente estremamente umido con un tassi di umidità molto alti e questo porta inevitabilmente ad esporsi al rischio della proliferazione di malattie fungine. Vengono pertanto selezionate solamente qualità in grado di resistere a queste particolari condizioni, condizioni che solitamente non ritroviamo nel prato domestico o se le ritroviamo in percentuali di rischio estremamente inferiori. Anche i prodotti di questa linea, essendo principalmente rivolti ad un pubblico professionale, sono disponibili solamente in confezioni da 10 kg, ma l'unico prodotto reso disponibile anche in confezioni da chilo, visto il suo enorme successo anche tra gli operatori hobbysti, è lo Sport Play di cui vi lascio in sovraimpressione il link al video dedicato. A seguire troviamo le miscele della linea Top Green. Top Green è una linea apprezzata sia dai professionisti del settore che dagli hobbysti più esigenti e studiata per soddisfare le più svariate condizioni ambientali ed esigenze personali. È una linea dall'elevato rapporto qualità-prezzo, poiché è si privata di tutta quella componente tecnica rivolta e richiesta dai professionisti del settore, ma non della qualità della materia prima. In qualsiasi linea l'altissima qualità del prodotto finale è alla base della filosofia di produzione di padana sementi. I prodotti di questa linea li trovate in diversi formati da 1, da 5 e da 10 kg. Andranno quindi a coprire le più svariate esigenze senza sprechi e senza rinunciare alla qualità di prodotti professionali. Ed infine abbiamo la linea Tarf Green. Tarf Green è una linea studiata appositamente per l'utilizzo su vaste aree, quindi grandi parchi pubblici, aree condominali, laddove dobbiamo soppesare il rapporto qualità-prezzo, ma non vogliamo rinunciare comunque a un discreto effetto estetico finale. I prodotti di questa linea sono disponibili in confezioni da 1, da 5 o da 10 kg e si adattano quindi alle più svariate esigenze. Oltre ai prodotti premiscelati abbiamo poi le essenze in purezza, ma queste veramente le consiglio solamente ad utenti professionisti del settore, in quanto sono disponibili solamente in confezioni molto grandi, da 20-25 kg, e vanno utilizzate con un certo criterio o miscelate per creare delle miscele personali diciamo. Tra l'altro vanno sapute miscelare, poiché essendo appunto essenze in purezza avranno caratteristiche molto molto particolari. Invece all'interno di un mix abbiamo differenti cultivar che si affiancano e sostengono all'interno di tutto l'arco solare, quindi avremo quell'essenza che parte prima in primavera, poi cala, ma magari arriva la festuca che la sostiene nel periodo più caldo, andando poi a riposo nel periodo invernale quando i loietti e le poi danno il meglio di sé. E quindi con un mix preconfezionato, studiato e bilanciato dai professionisti del settore, avremo un risultato estetico costante e completo all'interno dei 365 giorni solari. Mentre se andiamo a fare una coltivazione monocultiva, dobbiamo avere effettivamente l'esatta conoscenza di quel preciso prodotto, poiché potremmo ritrovarci in condizioni difficili e non avere il risultato che ci aspettavamo. Bene, per il momento mi fermo qui. Volevo inizialmente solo fare un po' di chiarezza su quelle che sono le grandi linee di prodotti di padana sementi, all'interno delle quali ovviamente abbiamo differenti mix, tutti con caratteristiche e peculiarità molto particolari, però quelle le andremo ad analizzare singolarmente volta per volta. Per il momento non mi rimane altro che invitarvi a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul mondo del giardinaggio. Grazie ancora per aver guardato, al prossimo video! Ciao!